Parte anche da Pescara la campagna dei radicali italiani e dei giovani democratici libera di abortire, una campagna a favore dell'aborto. Esattamente, sono giorni in cui celebriamo i 43 anni di vita della legge 194 e con questa campagna vogliamo tornare a dire che a distanza di tanti anni il diritto all'aborto rappresenta ancora per tantissime donne un percorso ad ostacoli. Il percorso ad ostacoli, voi a tal proposito avete fatto questa mattina anche delle proposte. È così, parte questa campagna da Pescara, da Roma, da Milano e che si pone l'obiettivo di girare per tutte le città d'Italia, in particolar modo su quei territori che vedono l'obiezione di coscienza a dei livelli molto alti e con tutte le conseguenze in termini di disagi, di stigma, di problematiche che questo comporta. Ci poniamo l'obiettivo di formulare, come abbiamo fatto, delle proposte molto precise e molto concrete rivolte a Governo e Ministero della Salute anzitutto. Tra queste, ad esempio, quella di incentivare concorsi ad hoc per personale medico non obiettore e ancora incentivare percorsi di formazione per il personale medico rispetto ai metodi anche nuovi, ormai riconosciuti da tutta la letteratura scientifica medica, su come poter accedere in sicurezza al servizio di interruzione volontaria di gravidanza.